Negli ultimi anni, sempre più migranti hanno raggiunto le nostre coste in cerca di fortuna, speranza o soltanto salvezza dagli orrori della loro terra. Purtroppo, molti di loro nel nostro paese, trovano solo altra miseria e troppo spesso odio. Quella di Christian è una di queste vite invisibili. Un pasto caldo e un po' di tranquillità è tutto ciò che vuole guadagnare. Christian non accetta di chiedere l'emosina, di stare a casa aspettando che qualcuno lo aiuti, non vuole cercare soldi facili nelle fila della criminalità. Vuole guadagnare il pane con la forza delle braccia, il sudore della fronte e tanta forza di volontà. Per questo ogni mattina gira per le strade di Torre del Greco, munito di mascherina, scopa e qualche altro semplice strumento. Con la sua scarsa attrezzatura pulisce come poi marciapiedi gli ingressi dei negozi e le aiuole. Non ferma le persone per avere qualche monetina, ma in silenzio lascia un cartello nel luogo in cui lavora, sul quale chiede un piccolo aiuto in cambio del suo sforzo. Abbiamo incontrato Christian mentre, sotto il sole torrido di luglio, continua a lavorare per ottenere solo una cosa, la dignità. Cosa stai facendo? Sto lavorando, pulisco le strade di Torre del Greco. Sempre pagare qualcosa, però non ho tante persone, pagare qualcosa non è forza, capito? Pagare qualcosa, io vai a casa a mangiare, cucinare, pagare soldi a casa, sempre 200 euro, sempre mesi. E riuscite ad andare avanti con quello che vi danno le persone. Anche questo è il lavoro. Lo faccio ogni giorno con un amico. Sto provando ad aiutare me stesso, se è possibile. Non mi piace il robato, non mi piace la droga, però mi piace il lavoro sempre, però il lavoro non c'è. Non c'è il lavoro, non mi piace sempre a casa dormire, non mi piace andare al supermarchettino, il capello, buongiorno, dammi soldi, così non va bene. Cristiano non va bene, vai al supermarchettino, lavoro, buongiorno, buongiorno signora, buongiorno signore, così non va bene. Ora devo continuare a lavorare.